Ciao Anna Fiscale, Hospital We Free. Cos'è il progetto Quid? Ce ne puoi parlare velocemente, grazie. Il progetto Quid è un progetto di moda etica, una cooperativa sociale di tipo B che fa inserimento lavorativo di persone svantaggiate con un focus particolare sulla donna, creando prodotti di abbigliamento e accessori a partire da tessuti recuperati e tessuti di rimanenza delle principali aziende di moda italiane. Con la disoccupazione al 44%, molti ragazzi come te sono costretti a cercare opportunità all'estero. Tu in controtendenza con i tuoi coetanei hai creduto nel nostro paese e credi che più giovani dovrebbero farlo? Assolutamente sì, credo che in Italia, nonostante la depressione generale, nonostante la crisi, ci possa ancora essere uno spazio affinché i giovani creino qualcosa di valore nel nostro territorio. Come? Tramite tanta passione, motivazione, competenza, studiando tanto quello che esiste già e cosa si può fare di nuovo per dare una risposta ai bisogni sociali del nostro paese? E se ci puoi descrivere in tre parole l'emozione che hai provato nel venire nella nostra comunità? Sono rimasta assolutamente estasiata, non vedo l'ora di conoscere più da vicino tutte le realtà presenti nella vostra comunità. Era una comunità che conoscevo poco, ma sono davvero rimasta incantata da quanto sia bello per molti ragazzi trovare una nuova possibilità, una nuova vita, una nuova speranza e veramente partire da qui per ricostruirsi un futuro che può essere entusiasmante e bello come quello di tanti ragazzi che ne escono e che trovano un inserimento, che trovano una nuova possibilità di vita. Grazie Anna. Grazie a voi.